Come dire, il Consiglio regionale sembra che da parte di tutti debba stare un passo indietro. Cerchiamo di riprendere un po' le fila di un discorso. In fondo è la massima assise regionale della rappresentanza del corpo elettorale, rappresentanza dei cittadini. Chiedo a tutti e due una conclusione, come dire, rapida, ma soprattutto vi chiedo questo. L'impressione che si ha con la struttura commissariale spaccata, con il Consiglio regionale spaccato, con i consiglieri, con i comitati spaccati, con rivendicazioni territoriali che spaccano questa nostra piccola regione, si ha l'impressione di assistere a una sorta di ressa sgangherata. Bisogna ritrovare il filo di un discorso. Assolutamente sì, ma io credo che sia una sensazione comune anche a Gianluca. Noi siamo stati in ultima ora in religioso silenzio e abbiamo assistito in una guerra fra bande, ma davvero una guerra tra bande. Quello che ha dichiarato il dottor Giustini rispetto alle responsabilità di Asrem e di una gravità inaudita. Giustini dice che lui invia una missiva a Giorgetta, nel quale gli dice assisti la struttura commissariale nella redazione di un piano e il direttore generale Asrem scrive a Giorgetta per dire non lo devi fare altrimenti ti attivo un procedimento disciplinario. Io queste carte le acquisirò perché hanno chiaramente una responsabilità metapolitica, evidentemente. E da ultimo, ma non per ultimo, noi abbiamo chiesto il 6 di aprile di sapere se si poteva fare il centro Covid a Larino, perché c'è una mozione votata positivamente e non abbiamo avuto documentazione che attesta che non si possa fare, come oggi ci dice il dottor Florenzano. Noi siamo, loro sono ospiti qua, sia Giustini che Florenzano, e farebbero bene a rispettare il Consiglio regionale insieme a Toma, che non ancora lo capisce, che è la massima assise regionale e che quindi noi avremmo dovuto avere certezza documentale se era fattibile una piano o altro piano, così come quello che ha provveduto ad inviare Asrem il 18, il 17 e il 16, non è importante. Noi avremmo dovuto conoscerlo e discuterlo in Consiglio regionale, perché loro non stanno a casa loro, loro esercitano una funzione, in ragione il ruolo centrale del Consiglio regionale che fa l'attività di programmazione. Ma veramente c'è da discutere sulla struttura di esercizio del potere e della rappresentanza in questo territorio? Io ne esco veramente, molto contrariato da questa trasmissione televisiva che mi ha dato le informazioni di una gravità inaudita. I vertici della nostra regione, chi deve assumere responsabilmente gli interessi del territorio, si sono in qualche modo calpestati i piedi senza far arrivare una sola informazione alla massima assise regionale, che avrebbe anche potuto assumere una decisione diversa da quella che potevi immaginare inizialmente, ma con le informazioni giuste e con quelle di tutti. Quindi io da domani devo dire cosa che non ho mai fatto, acquisirò tutta la documentazione che serve per trasmettere, mi asponde al Ministero un segnale di attenzione, non solo al Ministero, perché non è che questi qua non vanno d'accordo tra di loro e chi ne paga le conseguenze, su scelte per le quali loro ritengono di aver assunto il crisma dell'infallibilità, le fanno sulla testa dei molisani che sono rappresentati da noi, capiamoci, e dai sindaci a qualsiasi livello. Quindi io devo dire francamente che la Regione ne esce molto male, molto più male di quanto io potevo immaginare, che l'esigenza di invece andare in direzione di un accordo, di una concordia tra il Commissario alla Sanità e il nostro Governo regionale e la nostra direzione dell'azienda sanitaria regionale, oggi dimostra delle lacunosità e delle spaccature che non solo sono insanabili, non solo non hanno colloquiato tra di loro, ma si sono tra di loro in barba ai desiderati del Consiglio regionale, ai documenti del Consiglio regionale, fatti la guerra! Ma che ci fanno ancora qua? Cosa ci fanno?